cari amici di visione tv benvenuti nel nostro nuovo appuntamento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato danilo pagliaro ciao danilo ciao buongiorno ecco danilo pagliaro era stato ospite da noi tempo fa lui si è arruolato tanti anni fa nella legione straniera per la precisione in francia e adesso ha dato alle stampe questo libro facciamolo vedere eccolo qui si chiama vita da legionario per di arcos edizioni vuoi spiegarci cosa c'è scritto in questo libro danilo si volentieri questo libro è il terzo che scrivo sul sull'argomento della regione straniera cosa c'è scritto il mio universo è quello e le mie intenzioni sono quelle ovvero far conoscere la regione straniera per sapere che non è assolutamente quello che la gente dice che non è costituita da una banda di delinquenti che 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 scappano dalla polizia o che hanno combinato chissà che nefandezze la grande differenza con gli altri libri è che questo mio ultimo libro è scritto con una forma che assomiglia al romanzo ovvero ci sono dei dialoghi ci sono dei personaggi che 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 appaiono che scompariranno o che evolveranno nel seguito di quello che è questo primo libro perché ce ne saranno altri due questo per far scoprire la regione straniera dall'interno non si tratta più di dire come ho fatto nei due precedenti libri cosa sia la regione straniera o come ci si ponga davanti a un una certa situazione o un certo problema la regione straniera viene scoperta man mano che si va avanti nella lettura man mano che il protagonista che sono io scopre la regione straniera e questo appunto per spiegare realmente cosa sia per togliere tutti questi questi miti queste leggende queste cose che non sono ripeto assolutamente vere eh senti danilo tu eh tanti anni fa hai deciso di andare insomma ruolarti nella legione straniera eh è cambiato qualcosa rispetto agli ultimi anni rispetto a quando sei entrato tu sì ma io sono entrato 27 anni fa nel 94 eh per forza di cose la regione straniera è cambiata ehm perché tutto è cambiato perché la società è cambiata e eh la regione straniera fa parte delle forze armate francesi ma le forze armate eh francesi italiane poco importa sono né più né meno di uno spaccato della società ehm nella quale vivono le forze armate sono costituite da persone che provengono dalla società non è l'inverso la nostra società è cambiata quindi automaticamente la regione straniera come le forze armate in generale sono cambiate eh dopo si può analizzare ma non è il mio il mio scopo se i cambiamenti mh sono avvenuti in meglio o in peggio ma di sicuro eh la regione straniera che io ho conosciuto agli inizi 27 anni fa non è sicuramente più la regione straniera di oggi. Senti Danilo si parla tanto di questo periodo di gruppi militari anche per via della situazione di guerra in Ucraina. Tu hai detto noi siamo inquadrati dentro l'esercito francese eh eh ma diciamo siete una compagnia privata un po' sul modello della Wagner che combatte con i russi o siete una cosa diversa? Allora i mercenari e le compagnie private e tutta quella genia ripeto definisco genia sono una cosa noi non siamo inquadrati nelle forze armate noi siamo forze armate francesi ecco perché ho scritto tre libri ecco perché ci tengo a fare delle presentazioni a venire sulle interviste a parlare di questa cosa perché più ne parlo e meno sembra che la gente capisca ehm i gruppi di ehm gente più o meno seria che circolano nel mondo della guerra delle rivoluzioni e di tutto quello che succede in giro per il mondo oggi non ha niente a che vedere con le forze armate la regione straniera sono le forze armate francesi in Italia abbiamo ehm esercito marina aviazione e carabinieri in Francia c'è eh esercito marina aviazione uno dei corpi che c'è nell'esercito è la regione straniera allo stesso titolo dei in Italia si direbbe ci sono i bersaglieri ci sono gli alpini ci sono i paracadutisti e beh in Francia c'è anche la regione straniera ma siamo a tutti gli effetti personale del ministero della difesa con un tesserino regolare con un con uno stipendio regolare lo stesso che prende qualsiasi militare delle forze armate francesi con una busta paga con pensione contributi assistenza sociale ehm siamo funzionari tra virgolette funzionari statali come qualsiasi altro soldato francesi italiano poco importa ma non mescoliamo i soldati e eh i prezzolati che vanno in giro per tutti i loro motivi che nulla hanno a che vedere con il militare. Qual è stata l'ultima missione a cui hai preso parte? L'ultima missione a cui ho preso parte ero in Africa ehm per missioni parlo le vere missioni perché le missioni di protezione del territorio ehm in Italia lo chiamereste strade sicure cioè qui in Francia hai i vigi pirati ehm cioè eh non 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 sono le missioni eh poliziotti e carabinieri fanno questo ogni giorno non sono in missione è il lavoro normale. Le mie ultime missioni sono state in Africa eh sono stati in Africa e in Costa d'Avorio. Sono state missioni come dire operative dove vi siete anche confrontati con altri gruppi o soltanto insomma missioni per stabilizzare quei luoghi? sono state missioni nelle quali eh no no noi eravamo forze cuscinetto ehm tra la zona mh sotto controllo dei ribelli che era al nord del della costa d'Avorio e la zona sotto il controllo del governo che era al sud di una fascia smilitarizzata che noi appunto controllavamo e che divideva il paese in due però eh tutto sommato sì le cose sono andate sono andate bene bisogna smitizzare questa cosa di ehm guerre, sangue, morti, violenza eh dopo è logico che in certi posti ci sono morte e violenza. In Afghanistan l'Italia ha avuto dei morti eppure non eravamo là a fare la guerra né noi francesi né noi italiani ehm questo sono io sono italiano e sono anche francese ehm voglio dire non sei là a fare la guerra però quando vai in una missione dove c'è guerra si rischia di essere confrontati a degli episodi mh particolari è la normalità della vita di un soldato. Ti è mai capitato di trovarti in situazioni di pericolo diretto? Mi hanno sparato addosso, ho delle ferite, ho sparato, è talmente evidente è come domandare a uno che gioca a calcio se si è mai trovato nella situazione di dare un calcio a un pallone o di essere colpito da una pallonata e sì succede, succede sia di dare i calci che di ricevere le pallonate. Senti eh Danilo cosa pensi tu del conflitto in atto in Ucraina? C'è un dibattito dentro le strutture militari anche francesi rispetto alla possibilità di un allargamento del conflitto? Cosa penso? Rispetto a qualsiasi argomento, forse la domanda è impostata male perché mi dici c'è un dibattito in seno alle forze armate, sicuramente a livello degli stati maggiori e quindi a livello politico prima di tutto e eventualmente strategico, tattico ci sono delle discussioni, ma in una forza armata non ci possono essere discussioni, cioè la forza armata esegue gli ordini dati dal governo, quindi le forze armate italiane eseguono quello che dice Roma, le forze armate francesi eseguono quello che dice Parigi e c'è poco da discutere. La riformulo meglio, c'è fibrillazione tra i reparti sulla possibilità che accada qualcosa? C'è paura che accada qualcosa, perché se accade qualcosa, accadrà qualcosa di molto brutto e siccome noi siamo uomini e siamo uomini normali, come tutti gli uomini della terra, avremmo paura che il conflitto in atto possa evolversi in altre situazioni, in altre maniere. Di sicuro non ci aspettiamo, noi soldati di sicuro non si vive aspettando di fare la guerra o sperando di fare la guerra, anzi è proprio l'opposto. Ecco, che tu sappia, oltre all'invio di carri armati, di materiale bellico, c'è anche un afflusso di volontari, anche magari dalla Francia, dall'Italia, verso l'Ucraina per combattere i russi? Che ci siano volontari? Cioè, se tu volessi potresti andare a combattere con l'esercito di Zelensky, se ne facessi richieste? Non ho capito la domanda. Dico, se tu volessi potresti fare richiesta di andare a combattere lì in favore di Zelensky? Ma come persona civile, appartenente al mondo civile, al mondo non militare, posso fare domanda per andare a combattere con Zelensky, per andare a combattere con Putin, per andare dove voglio. Come soldato la domanda non si pone nemmeno. Non puoi fare domanda. Cioè, voglio dire, a meno di non essere in un esercito di pagliacci, o in uno stato di pagliacci, che permetta ai militari di fare domanda per andare dove vogliono, no, non puoi. Non puoi assolutamente. Parliamo adesso un po' della situazione politica in Francia. Dopo l'innalzamento dell'età pensionabile è scoppiato il pandemonio, anche perché Macron ha usato una forzatura, l'articolo 49.3 della Costituzione, ce l'ha fatta passare senza chiedere un voto parlamentare. Che clima si respira in Francia negli ultimi giorni? Da guerra civile. Si respira un clima che definire particolarmente teso è un eufenismo. Oltretutto sarebbe veramente interessante andare a approfondire determinate tematiche. Comunque la situazione è particolarmente brutta, anche perché c'è la gente, la maggior parte della gente, che ha torto o ha ragione, io non voglio andare sul fondo del problema. Se è giusto alzare l'età, se non è giusto alzare l'età, per carità di Dio. Di sicuro ci sono delle cose che sono certe, e questo indipendentemente dalle idee politiche, e dalle convinzioni che uno possa avere. Sicuramente la gente ha diritto al lavoro, sicuramente la gente ha diritto alla pensione, sicuramente la gente ha diritto a essere sindacata e ha diritto a fare le manifestazioni, a dimostrare, per carità di Dio, là sopra non si discute. Dopo bisognerebbe vedere determinate cose, perché, ripeto, sicuramente qui in Francia ci sono decine, centinaia di migliaia di brave persone che vanno in piazza per dire che non sono d'accordo su quello che è stato fatto. A fianco ci sono delle altre persone che non sono brave, che non sono per bene e che anzi sono, quando dico da eliminare non intendo fisicamente, evidentemente, ma sono da chiudere, da mettere in posizione da non poter fare quello che fanno, che approfittano delle varie manifestazioni per spaccare tutto, incendiare tutto e cercare veramente di uccidere. Vi do un dato che forse non conoscete, ma è di dominio pubblico in Francia. Dal 16 marzo a oggi, cioè in poco meno di due settimane, tra le forze dell'ordine ci sono stati 891 feriti, tra i quali alcuni particolarmente gravi in prognosi di riservata. Voglio dire, 900 persone a terra, tra le forze dell'ordine, è il sintomo di quello che sta succedendo. Questo non lo fa di sicuro il cittadino francese. I francesi, ripeto, hanno il diritto sacrosanto di soperare e lo fanno in maniera normale, tra virgolette. Qualsiasi cosa voglia dire è normale. Dopo però ci sono questi gruppuscoli che cercano realmente il confronto, cercano la destabilizzazione, cercano di fare male, cercano di uccidere, semplicemente. Dopo ci sono tante persone a fianco a questo, che cavalcano questo cavallo, che fanno passare messaggi che non sono i messaggi reali. Penso che sia la situazione che si crea dovunque. Oggi la si vive in Francia, non penso che altrove le cose siano diverse. Anche perché questi gruppuscoli, i famosi black bloc, molti vengono proprio dalla Germania, molti vengono dall'Italia. C'è una grossa confluenza di persone non francesi che vengono esclusivamente per, in Francia si dice, c'è il cassetto di flick per fare male, per confrontarsi con le forze dell'ordine, per fare a cazzotoni, per incendiare, per bruciare, per distruggere negozi, macchine, tutto quello che passa. Questo non ha nulla a che vedere con le rivendicazioni che ha una parte del popolo francese. Però si respira effettivamente aria da guerra civile. Ecco, noi abbiamo visto immagini pure di violenze molto gravi da parte della polizia, poi anche al tempo dei gile gialli, insomma, tanti sono rimasti ciechi con l'utilizzo di pallottole di gomme, insomma, anche la polizia francese non va per il sottile. Poi non so se è in uso in Francia, ma in Italia in genere queste grandi manifestazioni sono sempre infiltrate dai servizi che mandano un po' di picchiatori in giro. L'ultima volta l'abbiamo visto durante l'assalto alla CGL, quando persone, diciamo, estremisti, diciamo, sedicenti estremisti di destra venivano accompagnati dalle forze dell'ordine fino alla sede della CGL, poi ce n'era uno che è stato individuato con un uomo del ministero che faceva casino insieme a loro, il ministro disse in Parlamento che stava testando la forza ondulatoria dei mezzi. Ecco, c'è anche questo, insomma, forse un pochino di strategia dell'attenzione serve anche al governo francese o è una prorogativa solo italiana? Non ne ho la minima idea perché non conosco la... Io vivo in Francia, per cui non conosco... Dico, ma i servizi francesi la faranno un po' pure questa, infiltreranno per buttare un po' di violenza e criminalizzare piazze magari numerosissime, insomma, questo è l'ABC, no? Dell'avvelenamento informativo, non è che ci vuole Sherlock Holmes. Ma io penso che l'avvelenamento informativo è quello che stiamo facendo in questo momento perché indipendentemente dal fatto di apprezzare o no un governo, uno Stato, le forze armate, le forze dell'ordine, per carità di Dio, nessuno discute sulla libertà di amare o no questa gente, ridurre al fatto che la situazione che c'è adesso è dovuta alla manipolazione, mi dici, che i servizi segreti fanno, cioè è veramente essere totalmente in mala fede, è veramente voler far apparire le cose come non sono nel modo più assoluto e non è la realtà delle cose e fino a che non saremo in grado, ma tutti in Italia, in Francia, nel mondo intero, di vedere un problema e di analizzarlo indipendentemente dal proprio credo e dalle proprie idee politiche, la situazione andrà sempre peggio perché io non discuto né sul bene né sul male che di servizi, appare il fatto che non lo so perché io non faccio parte di servizi, ma al di là di questo quando si è su un fronte di uno sciopero e si vede della gente che viene con le fionde, con le palle da flipper o con le acette o con le scuri o con bombole di acido da spruzzare negli occhi della polizia e dopo mi si dice che la polizia è violenta, beh, mi dispiace, potrei usare tanti aggettivi che mi farebbero tanti amici perché non si è mai visto e questo indipendentemente dalle idee politiche che si hanno, non si è mai visto la polizia o i carabinieri che attaccano i manifestanti, si è visto i manifestanti che poi i manifestanti, occhio alle parole che si usano anche là, il 99,9% dei manifestanti è tutta gente per bene che ha il sacrosanto diritto di dire che non sono d'accordo con determinate cose, che dopo abbiano ragione o no, è un altro discorso, ma hanno questo diritto ed è giusto che possano fare così. Quando invece ci sono dei cialtroni che arrivano e cominciano realmente a provocare e picchiare e lanciare di tutto contro le forze dell'ordine, è logico che le forze dell'ordine intervengono e intervengono in maniera violenta ed è giusto che sia così e chiunque non lo ammetta o è un povero deficiente o è in malafede perché per stroncare una violenza c'è poco da fare, bisogna utilizzare una violenza maggiore, neanche uguale, perché se è uguale non si stronca niente e bisogna ancora fare presente che se di fronte c'è uno squadrone di 100, 200, 300 poliziotti o carabinieri si trovano di fronte a mille persone. le forze di polizia sono sempre in numero molto inferiore perciò se di fronte c'è gente in numero superiore e realmente violenta bisogna sì o andare via ma non si può neanche prevedere una cosa del genere perché non dimentichiamoci che le forze dell'ordine sono lo Stato quindi devono restare là e devono oltretutto difendersi quindi sì è vero che le forze dell'ordine e le forze di polizia in certe situazioni esercitano una violenza è sicuro ma da lì a dire che le forze dell'ordine sono violente no un momento riposizioniamo tutto i cialtroni pezzenti di fronte non i manifestanti quelli che vanno là per fare casino quelli sono violenti e le forze dell'ordine devono rimettere la casa utilizzando violenza di sicuro di sicuro quando si vedono macchine della polizia furgoni incendiati furgoni in macchina ecco non si si è bloccato il collegamento vediamo se riusciamo a riproviamo a ricollegarci anche perché volevamo capire qual è proprio lui aveva parlato di clima da guerra civile vorremmo capire anche qual è l'evolversi della situazione visto che è politicamente mi senti adesso non sentivamo più presente ecco abbiamo ripristinato il collegamento con Danilo Pagliaro autore di questo libro che abbiamo presentato in apertura vita da legionario eccolo qui legionario della arruolatosi in Francia tanto tempo fa stavamo discutendo della situazione politica francese rispetto alle tensioni di piazza ecco Danilo prima ci diceva che c'è un clima da guerra civile che la risposta della polizia è giustificata dalla violenza dei manifestanti ecco io ti facevo notare Danilo che siccome la storia d'Italia la conosco e ho seguito cos'è stato Genova nel 2001 conosco un po' la storia degli anni 70 so perfettamente come funzionano alcune manovre ma d'altronde è un dato storico non è che è inventato in mala fede da nessuno ecco tu ti ricorderai quei poliziotti che portavano finte molotov per demonizzare i manifestanti i cosiddetti no globe sono cose che in Italia sono successe spesso accadono ecco se tu dici che in Francia invece queste cose non succedono ecco la conoscerai meglio di noi diciamo là però non si può dire che non esistano queste manovre ho detto ho detto che non fatemi dire le cose che non ho detto no dice è in mala fede chi immagina che ci siano manovre dei ministeri dell'interno non è affatto in mala fede perché chi conosce la storia sa che queste cose le fanno non ho detto non ho detto così non ho detto che chi dice così è in mala fede ho detto ho dato un esempio ben preciso e di fronte a quell'esempio ho detto che sostenere il contrario è essere in mala fede e lo confermo non ho detto che perché effettivamente la storia è lì va bene superiamo questa polemica andiamo alla situazione attuale come finisce questo braccio di ferro ci sono ancora grandi manifestazioni di piazza ma ce ne saranno ancora in Francia i francesi sono i francesi sono ostici i francesi i francesi non vogliono lavorare fino a 64 anni poi i francesi una parte la maggior parte dei francesi non vuole lavorare fino ai 64 anni per cui ripeto non so come andrà a finire se il governo manterrà o se non ne ho la minima idea ma di sicuro la piazza è sempre è sempre lì e e e perlomeno i messaggi che manda è che continueranno fino al ritiro di questa legge c'è una saldatura tra il partito di Marine Le Pen e la sinistra di Melanchon contro questa riforma allora per motivi diversi ma sono contrari tutti sono contrari tutti non tutti ma sia la la Melanchon sarebbero io uso ancora ripeto io d'Italia ci manco da un po' anche se vengo regolarmente ma Melanchon sarebbe il comunista il PC quello che era il PC che non si chiama più così neanche in Francia attenzione Marine Le Pen sarebbe quello che era almirante all'epoca la 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 destra ambe due sono contro la 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 riforma di Macron non si sono alleati se era questa la domanda però effettivamente nessuno dei due è d'accordo con questa cosa quindi il governo intende proseguire su questa strada però il rischio che aumentino le tensioni sociali è grande ecco tu dicevi prima c'è chi soffia un po' sul fuoco ecco chi è che soffia sul fuoco non lo so le persone non ho detto mi si fa dire cose dico i sindacati francesi sono diversi da quelli italiani perché tu sai che quando Monti e Fornero fecero quella riforma fecero quella riforma Lacamusso era a braccetto con Monti ecco i sindacati francesi sembrano un po' diversi meno collaborativi allora a parte Monti non ho la minima idea delle persone che hai nominato chi siano e cosa facciano e cosa abbiano fatto proprio non lo so non è che detto questo sicuramente i sindacati i sindacati francesi non sono assolutamente collaborativi con il governo francese per il momento ma torno a ripetere sono cose che so come voi attraverso la televisione sicuramente ne so di più perché vivendo in Francia non sento solo quello che arriva in Italia ma regolarmente sento vedo vivo quello che succede qua in questo paese ma 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 non sinceramente non lo so non lo so ti faccio un'ultima domanda quando tu dici c'è un clima da guerra civile è un iperbole o pensi che davvero possano scoppiare tensioni così gravi durature da spaccare definitivamente un tessuto sociale già spilacciato allora quando dico che c'è un clima da guerra civile è perché ripeto ci sono da una parte ci sono i manifestanti che manifestano fa da ridere ma come espressione il clima da guerra civile è è è è imposto non solo alle forze dell'ordine ma anche ai manifestanti da parte di una piccola piccolissima fetta di delinquenti perché sono solo dei delinquenti che non hanno nessuna ideologia nessun partito politico non è vero che sono della sinistra o dell'estrema sinistra o dell'estrema destra quella gente non ha nessun credo politico il loro credo è fare casino quindi questa gente sta imponendo un clima da guerra civile perché perché ripeto incendiano distruggono incendiano l'ultima hanno incendiato una banca credo l'ho sentito questa mattina ma senza tutti i grandi discorsi la banca il potere l'economia o cosa so io questi si trovano davanti a qualcosa rompono distruggono hanno sfondato la macchina di un di un di un medico che stava facendo un intervento ma non è importante chi era cosa fosse cosa stesse facendo cioè questa gente sta provocando un clima particolarmente teso che non ha niente a che vedere ripeto con le rivendicazioni sociali giuste o sbagliate che siano che una grossa fetta del popolo francese sta chiedendo è un diritto in ogni caso facciamo rivedere in conclusione il libro di Danilo Pagliaro eccolo qui vita da legionario un italiano nella legione straniera grazie Danilo per essere stato con noi grazie arrivederci e amici di Visione TV grazie per aver seguito anche questa nostra intervista vi ricordiamo che il nostro lavoro è possibile solo grazie al vostro aiuto noi viviamo di donazioni non abbiamo finanziatori esterni e non ne cerchiamo ci potete aiutare donando i numeri che la regia appena mandato in sovraimpressione grazie ancora una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti